Musica Pronto? Sì No, sta cominciando la trasmissione Ci sentiamo dopo Sì, sì, sì L'HRC ce ne va bene L'HRC ce ne va benissimo Massimo fra mezz'oretta e tre quarti ora sono là Robert, tu vuoi venire? No Ma è cominciato Siamo in trasmissione La smetti di fare queste gank Scusate, scusate, scusate Le solite cose di cattinissimo gusto Bentrovati, salve, salve a tutti Bentrovati alla ventiquattresima puntata Adesso i numeri Cominciamo proprio a dirli a caso No, la ventiquattresima puntata La ventiquattresima puntata si sa che è la più importante Lo sai perché? Lo sai perché è la più importante La ventiquattresima puntata No, non lo so Ma anche io però Mi piace sottolinearlo Buonasera a tutti Buonasera a tutti Noi siamo ancora qui La buona notizia è che Sta per finire questa stagione Io ve lo dirò ad ogni puntata Ve lo ricordo così vi do conforto alle speranze Questa stagione durerà almeno fino a fine luglio Con zaticci Sono arrivati i dati audite della settimana A proposito Sei passato un po' la Pasqua Pasqua c'è stato un mese fa Sì, siamo fatto pure una cosa Pasquetta Ma vai, ma smesso Allora, vabbè Sono arrivati i dati audite Però il cosetto, hai visto? Fallo spareggio Sei contento? Sei contento? Sì, sono strafelice Però ancora c'è questo Questo piccolo passo Da poter fare Però sono molto fiducioso Aguara scegliene Vuoi bene? C'è sciupazzo Stendiamo un velo Un velo pietosissimo Ringraziamo Mr. Bisoli Perché secondo me è molto merito suo Almeno questo Sì, devo dire Questo metà traguardo Devo dire che questa grinta Insomma è davvero coinvolgente Lascia sperare Quindi sei d'accordo con me? Stranamente questa volta sì Vuol dire che ho detto una cazzata Scusa, voglio dire una cosa Anche stasera ci sono gli ospiti Che sembra, voglio dire Uno si collega Ma col tempo le faremo parlare Ma quando, con calma Quando Sergio finisce di fare I fatti suoi, personali Invece che farli a casa Li fa in televisione Poi allora presenteremo anche gli altri A volte la dalla granciccia Ristorante di lusso O capare Allora Non si fa pubblicità Infatti si chiama miseria e nobretà Datti audit Della settimana scorsa Le diciamo? No Sono molto felice Perché stavolta Ma perché me lo chiedi E poi alla fine Come dici tu? E tu no No, tu quando dici no E sì Come i femmini Tutto il parentato Di chi? Di tu Sia mio che tu Anche degli ospiti Anche degli ospiti A proposito di ospiti No però L'ho fatto dell'audito Voglio dire una cosa Vedi che ci segue gente veramente Tipo Ieri mi ha scritto Il mio amico Eugenio Fricchettone Che vive a Roma E mi ha detto Che lui ormai All'appuntamento Che si vede Le nostre puntate Ma è peccato Con tutto quello che hai da fare Noi ci scherziamo sempre Però Ti posso dire Che ovunque vado Mi dicono Tu sei Certo Sei in trasmissione Con quello con la barba Quindi Siamo Già con la barba Potrebbero usare Anche altre No no Però va bene Va bene La barba va bene Tu sei signor D So che ci sono l'ospita No L'ho detto prima Oggi Quattro ospiti Diciamo scasato Ma non è mai successo Sì Quattro sedute Quattro sedute Che voglio dire Tutto Lì si vede Tutta la bravura Della regia Che è riuscito Oltretutto Non ha pazienza A fare un programma Insieme a te Luca Ci hanno chiesto No timer 24 puntate Ma proprio Però è pure vero Che tu arrivi in puntata E lui non sa Se tu arrivi A che ora arrivi Va bene Vi facciamo parlare All'ospito No Presentiamo gli ospiti Presentiamo gli ospiti Allora Per dovere di ospitalità Lasciamo da parte Quelle della Tera di Piero E parliamo con No parliamo Presentiamo Presentiamo Poi parlare È un'altra cosa Poi vediamo Ilenia Langella Ilenia Langella Buonasera Buonasera Benvenuta Benvenuta Marina Rocca Buonasera Buonasera Benvenuta Benvenuta a Maria Marianna Gallo Ah qui non devi leggere Presidente onorario Della terra di Piero E poi la signora La signora Tiziana Tiziana No no Tiziana Tiziana No 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 Tiziana Turano Turano Buonasera Buonasera Che ha una sua identità Tra l'altro Molto delineata Ah si Non lo so Non lo so Non la conosco La prima volta Che ho il piacere Di vederla È stasera Di cosa parliamo Di un'iniziativa Veramente Adesso facemolo Pochi serio Non lo so Si o no Non credo Tu possa riuscire Ad essere serio Allora Faccio Un velo Proprio di serietà Perché è una bella Iniziativa Partita Dalla Dalla terra di Piero Con Con involgimento Di due Di due associazioni E nostre Posso dire Nostre gemellate L'iniziativa Dei Maccabuoni Tiziana Vuoi parlare subito Tu Di cosa si tratta Che cos'è Che cos'è Questa iniziativa Maccabuoni Sono curioso Che la conosco Poi Nel frattempo Andate Se la fai parlare Aspetta Sul teleschermo Stai uscendo Il logo Sia dei Maccabuoni E poi Di Affavori Che è la La conseguenza Di questo Di questo piccolo Corso che stiamo facendo La prospettiva La prospettiva Ma ora Fa parlare Tiziana Fino a ora Sta facendo parlare Ah raga Io ho avviso Gli ospiti Che funzionerà così Farà le domande No Non lo devo dire Farà le domande E poi rispondere E poi rispondere Non vi demoralizzate Ci sento come figure Però siete Bella figure Quindi va bene Tiziana Vai Allora Il progetto Maccabuoni Nasce da un'idea Di Sergio Crocco Che a metà Metà novembre Mi ha telefonato E mi ha detto Senti Io voglio Fare questo Voglio imparare I ragazzi Delle associazioni Le quali vorranno Aderire A fare I maccarroni Che poi Noi li abbiamo Trasformati In maccabuoni Perché sono I maccarroni Fatti con il cuore Esatto E hanno aderito Due associazioni L'IPD E Punto e a capo Che sono qui Con noi stasera Con molto Entusiasmo Devo dire Questi ragazzi Sono bravissimi Hanno Da subito Hanno capito Come funzionava Il progetto Futuro È quello Di Come diceva Sergio Poi renderli Autonomi Nel lavoro Per cercare Di Proprio Collocarli Nel mondo Del lavoro A questi ragazzi Il corso Due volte A settimana Si tiene Di mercoledì E di venerdì Un Mercoledì Diciamo Diciamo Una cosa Che secondo me È molto importante Il corso Comunque è aperto A tutti Non solo Le due associazioni Ma chiunque Vole sempre Infatti partecipano Anche persone Che non fanno parte Di alcuna associazione Veramente Partecipano Anche Tipo Un'amica di Marianna Che aveva intenzione Di fare Di imparare a fare I maccarroni Questo progetto L'abbiamo sposato insieme Io e Marianna Magari a fare i maccarroni Non è bravissima Ma in questo progetto Ma in questo progetto C'è veramente Tanto Tanto di suo È un esperto È un esperto Di bimbi Di bimbi No non è vero Come sa usare il bimbi Lei in cucina Marianna Ci hanno regalato Tanto di cosa Facciamo finire A lavare i piatti A fine corso Perché No è vero Fai finire Attenzione Dicevo Di mercoledì E di venerdì Abbiamo iniziato Subito Con i maccarroni Che è la pasta Fatta in casa Più difficile Ma che cosa sono I maccarroni Sono Sono i Fusilli Ecco Detto alla Cusendino Con i maccarroni Che si fanno Con o il salice O il ferro di ombrello Io a loro Per praticità Gli sto facendo fare Con gli stecchini Quelli lunghi Ci vuole una grande manualità Quindi Piano 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 Però già alcuni di loro Li sanno fare Non in piena autonomia Ancora Però il corso È iniziato solo a novembre Poi ci siamo fermati Un paio di volte Per problemi Covid Però sono Sono bravissimi La cosa Che mi ha Veramente Riempito di gioia È il loro entusiasmo Vengono felici Passiamo due ore Tutti insieme Anche perché Il progetto È anche Per la loro Socialità Per la loro Autonomia Loro Stanno insieme Ad altre persone Acquistano Autostima Al momento Devo dire Che sono Veramente Molto Molto Soddisfatta Si vede che Tu e Tiziana Avete più o meno Gli stessi percorsi Anche lei Ha iniziato a parlare Cinque minuti fa Non si ferma mai Io Ne ha da parlare Ed è arrivato Il primo Il primo SMS Cinque minuti Che però è un po' Equivoco Non ho capito Che Però bellissimo Bellissimo È una cosa Curimare Brava Tiziana Scusa Stavo parlando Vuoi parlare Sempre tu Parla No parla No sentiamo Questo SMS No sentiamo Che stai dicendo Di Tiziana Niente Non ce l'hai sentito Il primo SMS Che però è equivoco Non so se è personale Oppure è culinario Potrebbe Noi vogliamo Pastacchina Ma Parliamo Allora È un messaggio Che ha un significato Due significati Almeno Almeno due Uno Magari la gente Non vuole fusile Vuole la pastacchina Oppure Il mitico Il grande Il superlativo Chi più ne ha Più ne metta Vincenzo Speziale Detto per noi E pastacchina E combinazione Il mio marito Sì Ecco perché Combinazione Non ti rimanga corta È tuo marito Da Da oltre 30 anni Se non sbaglio Giusto Che bellezza Allora Passiamo a Marianna Passiamo a Marianna Facciamo una domanda Brava Marianna Bravissima Allora Una domanda Per Ilenia Ilenia Non ce la facciamo Non ce la facciamo Come sta Pasquale Come sta Com'è questa esperienza E' bella E' bella di questo Ringrazio Tiziana Che mi ha coinvolta Mi ha tirata dentro Questa esperienza Di solidarietà E' un'esperienza Veramente di Il cui successo Secondo me E' dovuto A quello che è Il tratto distintivo Della terra di Piero Quindi la cordialità L'amicizia E' stata un'esperienza Per me Non tanto culinaria Perché come ci faceva Notare Sergio Sono Sono negata Quindi figuriamoci Se riesco a insegnare Una cosa del genere No, no, negata No, no, negata Negata esageriamo Io Si imbedita Si imbedita E' imbedita E' imbedita Vabbè una cosa del genere Ma poi quando Fai le merendine Insomma Comunque no Sicuramente è un'esperienza Che c'è Mi ha arricchito tantissimo Dal punto di vista umano Questa cordialità Che abbiamo poi ritrovato Nelle associazioni Che hanno partecipato All'iniziativa In tutte le persone E che poi Il nostro tratto Ci auguriamo Il tratto distintivo Della terra di Piero Col quale portiamo avanti Tanti progetti Adesso mi fermo Se no Roberto Mi sgrida Che parlo proprio No, no Sei stata bravissima Chiara Subito Bravo Questa è la vera Presidente Beh Sicuramente Poi Ecco Presidente Bisogna chiarire Poi anche I ruoli Allora per statuto Bisogna avere Per forza Presidente onorario E allora Ci hanno fatto Quello che Dovevano essere invertite Queste cose Il mio giudizio Il personaggio Più inutile Della terra di Piero Infatti sono solo etichette Solo etichette Noi non ci teniamo Non è vero Non è vero Ilenia Ci vuoi raccontare Un po' Della tua associazione Per grandi linee Ok Io faccio parte di Punto a Capo Che è un'associazione Che si occupa di persone Con sindrome di Down Infatti noi facciamo Comunque dei percorsi Di autonomia Nelle varie fasce D'età Abbiamo il corso Del club Dei ragazzi La fascia Va dai 14 anni Fino ai 18 anni E poi c'è Il club più Che è il gruppo Con cui partecipiamo Al laboratorio Dei maccarroni Perché comunque Sono dei ragazzi Più grandi Non vanno a scuola E quindi ci vediamo Tutti i giorni Dalla mattina Dalle 9 e mezza Alle 15 e 30 Del pomeriggio Quindi per noi Il venerdì innanzitutto È proprio un giorno Di festa Siamo stra entusiasti Perché sappiamo Che dobbiamo andare Alla terra di Piero Perché incontriamo Tiziana Mariana Armando Fulvia Che nel corso del tempo Sono comunque diventati Degli amici Per noi Dobbiamo essere Sinceri Sono proprio Degli amici Perché ci hanno sempre E tutti gli altri volontari Perché poi durante La giornata Comunque ci sono Tanti volontari Che mandano avanti Questa associazione Che è spettacolare Proprio Poi come associazione Noi facciamo Comunque i ragazzi Mandano avanti Un appartamento Quindi si occupano Della gestione Proprio della casa Proprio con un foglio Con tutti i turni Cucinano Facciamo un corso Di computer Un po' di fitness Poi ci teniamo Anche informati Su quello che succede Nel mondo Il giovedì mattina E poi durante l'anno Facciamo anche Dei weekend Gestiti in autonomia Infatti venerdì prossimo Non possiamo essere Alla terra di Piero Perché partiamo E andiamo A Bari Per tre giorni Ci facciamo venerdì Sabato e domenica Alberobello Bari E poi facciamo Anche le vacanze Al mare A luglio Una settimana In un villaggio Ritornando Alla terra di Piero Per noi è stato Proprio Cioè veramente Un'esperienza fantastica E come dicevo prima Siamo diventati amici Nel tempo E Tiziana E Marianna Poi sono Veramente delle persone Cioè tutti Sono speciali Però Anche nel Per il periodo Di Natale Per esempio Sono venute Nel nostro Appartamento E ci hanno insegnato A fare i turdilli E' stato bellissimo Proprio Turdilli 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 non esistono Da cosa Perché io in realtà Non sono cosentina Molta gente È rimasta un po' perplessa Allora io non sono cosentina Quindi ho difficoltà Anche a dire Curdilli Leggi Bravo Che non è facile Però non male Dopo 15 anni Che ormai Bazzico a cosenza Capito Non si vedano Che è diventato così grande Che non vedo gli ospiti Ah ok E quindi niente Io non sono cosentina Anche se comunque Lavoro a cosenza Da 15 anni Però Cioè io Cosenza proprio La adoro E anche tutte le realtà Che ci sono Tutte le associazioni Infatti Cioè Della terra di Piero Proprio ne ho sempre sentito Parlare tanto Perché secondo me Non esiste un cosentino Che non conosce La terra di Piero Per tutto quello che fa Sia Per il sociale Nella città Però ne sentivo parlare pure Per tutte le cose belle Che avete fatto in Africa Tutte le iniziative Qualcosa ne abbiamo fatto Tanto Proprio E poi comunque Lavorando Operando un po' nel sociale Ci siamo pure incontrati Diverse volte Con la compagnia teatrale Io potrei raccontare Esperienze bruttissime Personali Avute però Insomma Con la terra di Piero Con la terra di Piero Con la terra di Piero No no era Allora Quando Roberto Ha incontrato La terra di Piero Ma la dice ad ogni puntata Sta cosa Piangeva Era distrutto Allora le cose vanno ribadite Io lo vedo Che piangeva ogni giorno Ma parliamo Parliamo di loro Che invece Mi interessava Questo fatto Delle esperienze Di autonomia Che fate Anche questo fatto Dei viaggi Ha un obiettivo Questa cosa È proprio mirata Allora L'obiettivo principale Comunque delle vacanze Del weekend Alla fine è quello Di divertirsi E di stare insieme Però poi è normale Che i ragazzi Acquisiscono delle competenze Sempre in più Perché comunque tu impari Innanzitutto sono coinvolti Nell'organizzazione Del weekend Quindi per arrivare In un posto Dobbiamo andare Arrivarci con il treno Con il pullman Quindi andiamo sul sito Andiamo a vedere Il mezzo da prendere E poi per esempio Venerdì scorso Prima di partire Facciamo l'organizzazione Di quello che devono Mettere in valigia Per Perché così è più semplice Fare la valigia da solo Con un minimo di aiuto È molto bella questa cosa Noi la diciamo così Come se fosse una cosa scontata Invece Imparare a gestirsi E a organizzarsi Anche rispetto a degli eventi Che non sono proprio Non fanno parte Della routine quotidiana Quindi organizzare un viaggio Un divertimento È una cosa scontata Invece È bello imparare a fare questa Io lavoro con altre due Operatrici Che sono Maria Di Lecce E Luona Filice Che comunque siamo Ci conosciamo da tanti anni E abbiamo fatto tantissime esperienze Con i ragazzi Proprio ci piace Stare insieme E stare per strada Cioè tutte le nostre attività Oltre al weekend Pure il venerdì pomeriggio I ragazzi organizzano Le loro uscite E quindi noi alla fine Facciamo le cose Un po' che fanno gli altri ragazzi Perché partiamo dal presupposto Che le persone con sindrome di Down Non hanno dei bisogni speciali I bisogni sono comuni Proprio come tutti quanti gli altri Quindi ci andiamo a prendere un aperitivo Andiamo al cinema Al bullying E sono loro Anche questa affermazione Non è proprio scontata E' importante farla Ma questo è quello che penso Che mi fa andare avanti Proprio da tanti anni In questo mondo proprio Prima o poi impareranno in tanti A pensarlo così No, mi stanno pensando E taci turno questa guaiola Parla Allora abbiamo avuto Allora finora tre interventi Manca il quarto intervento Che finalmente ti fanno stare in silenzio Sì, sì Ah, ed è meravigliosa questa cosa Comunque tu che Dice cose molto interessanti Tu che si vanti di fare presidente Cosa Allora tu a me mi lasci sempre a casa Non mi porti mai da nessuna parte No, beh Sì, sì Siamo in televisione Soprattutto d'estate Mi lasci sempre a casa Siamo in televisione Che devi fare i viaggi con le tue fidanzate Io la voglio sottolineare in televisione questa cosa Quest'anno siamo stati a Praga In maniera chiara Due volte l'ho portato in gara Perché ce l'ho portato io Ecco, lui ce l'ha portato Ecco Io, io Lasciamo stare Lasciamo stare Che non con me fa pata Che non con me fa pata Vai avanti Vai avanti Che sta diventando una puntata È una cosa familiare Stavo pensando Quando parlavi del sito Che ci sono siti molto belli Soprattutto in un paese Della provincia di Cosenzo A Belsito E allora presentiamo Marina Marina di Fuscaldo Giusto? No, no Marina Rocca Giusto Maria, com'è questa esperienza? Questa esperienza l'ho vissuta in pieno E sono stata molto contenta Di frequentare questo corso Come ti trovi? Come ti trovi? Mi sono trovata benissimo Armando? È simpatico Tutto sommato Sì Però parla troppo Grida troppo Diciamo No, no, no È bravo? Sono delle persone serie Allora Io da Marina voglio sapere Perché io non ci capisco niente di cucina Capisco solo da mangiare Se è fregatino Però poi da cucinare Non ci capisco niente La differenza tra Lagana e tagliatelle Allora Le tagliatelle hanno l'uovo Invece le lagane non hanno l'uovo Esatto Bravissima Bravissima E poi la lagana comunque è cosentina cosentina Giusto? E soprattutto le lagane si fanno con i ceci La famosa lagana e ciccia E adesso eh Con l'alloro Con la foglia d'alloro Sempre Un altro sms Lo facciamo vedere subito Sì Lo facciamo vedere subito Ma mi sei domandato È certo No Ok Allora lo facciamo vedere subito Roberto sei bello Una tua ex Ai 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 Chi è? Pre storia sarà Non lo so Chi sarà? Chi sarà? Ha le cose così di Lex Mi sa Mi sa Ma Mi sa Non lo so Ma non sappiamo come Mi raccomando Mi raccomando Tizia Che cosa vi sta dando a voi questo Questo corso? Poco fa abbiamo detto che cosa Che cosa fanno i ragazzi Adesso che Che cosa Che cosa ricevete a voi da questa Da questa Bella situazione? Un'infinità d'amore Un'infinità d'amore Quando arrivano e ci abbracciano La mattina è meraviglioso Io sono mamma di quattro figli Ma così tanto amore Non ne avevo mai ricevuto Loro sono proprio un oceano di amore Sono meravigliosi Io veramente Mi sento veramente utilissima In questa circostanza Veramente Stiamo ricevendo affetto Amore Sono veramente dei ragazzi Meravigliosi E mi fa molto piacere Che ogni volta che ci lasciamo Ci diamo appuntamento Al prossimo venerdì O al prossimo mercoledì Non sono Quando non sono venuti C'è sempre stato un motivo E altrimenti Vengono sempre Con tanto entusiasmo Sono veramente felicissima Di questo progetto Parlavamo un'altra volta In parte con Mariana Sicuramente L'anno prossimo Lo rifaremo Sperando di coinvolgere Anche altre associazioni Perché vediamo che loro Stanno bene Sono al loro agio E poi lavorano E alla fine di ogni corso Quello che loro preparano Comunque noi glielo diamo E poi vanno in associazione E lo cucinano Quindi Veramente È una grande soddisfazione Questi ragazzi Sono veramente Un'esperienza meravigliosa È stata per me Maria La stessa domanda è per te Come dicevo prima È stata Ed è una storia Di amicizia Di simpatia Quindi Sì Diamo qualcosa Insegniamo qualcosa Riceviamo in cambio Affetto Simpatia Questo Non solo Non solo È stata anche un'esperienza Di Di empatia Imparare a dare In base alle esigenze Di una persona E ricevere in cambio Dei risultati Perché comunque Ci sono dei risultati concreti Che sono una grande soddisfazione Qui Questo Allora Abbiamo terminato La prima parte La prima parte Pubblicità Ci vediamo dopo Eccoci Rieccoci Anzi Rieccoci Chi stava a parlare Sicuramente Hai interrotto qualcuno Io non mi ricordo Stava parlando Mariana Mariana Stava parlando Finito Per questa idea Di essere brevi Visto l'intolleranza Di Roberto L'intolleranza No Mariana Io la voglio No Come siamo Io la voglio precisare Questa cosa Non è l'intolleranza Mina Io sono abituato a lui E so che gli togliete tempo Lui deve parlare Deve parlare Ecco Quindi L'ha visto l'altenismo Participo No Stava parlando Silenia Silenia è esperta davvero Come? Silenia è esperta davvero Chi ne? Silenia Questo è l'altro Esperta davvero Ma come sei? Io volevo testare Allora io sono di Vivo Marina Però sono nata a Napoli Origine napoletana Perfetto Volevo testare La tua sicurezza Sul nome Perché tu Dottoriamente Sì Cami scuardo Però non ce l'hai ingannata Una domanda di cultura generale Posso fartela Perché? Stavattina venendo qua Mi chiede Perché in America Fa sempre freddo Perché? Secondo me non in tutta l'America Fa sempre freddo A parte la Florida La Florida è da cose diverse Ma diciamo Tutta l'America Di solito fa sempre È rinomata No? Sì Perché fa freddo Perché? Io ce l'ho la risposta Io non lo so Perché l'hanno scoperta Non be' Ha capito? Non be' Fa freddo L'hanno scoperta Fermati Adesso fa freddo Adesso me ne fa Vieni qua Vieni qua Allora i risultati Mi interessa sapere Che progressi hanno fatto i ragazzi Faccio rispondere Prima Marina E dopo a Tiziano Prima Marina E poi a Ilenia E poi a Tiziano Vai Il mio progresso È quello di essere più autonoma No no I progressi I progressi che hai fatto Da quando hai iniziato Ad adesso Hai trovato difficoltà No no Io non ho trovato Nessuna difficoltà Per me è un onore Per me è un onore Fare questo corso E soprattutto Mi piace la cucina La mia passione È più grande Quindi adesso Adesso La lagana La lagana La lagana La lagana Lagana e baccarroni Adesso Potresti farli in autonomia Le sai fare? Sì Ok Ce le farei a noi Allora Grande I progressi I progressi Allora Partiamo proprio Secondo me Di inizio Non è stato semplice Perché comunque Erano tante cose Da memorizzare E poi pure La pratica Proprio sulla manualità E fare i maccarroni Non è facile È difficile Soprattutto il movimento Quando devi arrotolare Con lo stecchino Però nel corso Dei mesi Proprio La cosa bella È stata che ogni volta Comunque Conquistavamo Un obiettivo Cioè Un tassello in più Mettevamo Ma io proprio In prima persona Perché poi Mi mettevo pure io A impastare A cercare di fare i maccarroni E all'inizio Non riuscivo neanche A fare il primo Rotolone centrale Proprio Poi Ho capito Poi c'è sempre stata Tiziana vicino Che ci ha veramente Supportato tantissimo E spiegato E scosso anche In certe situazioni Perché magari Noi facevamo piano piano Per arrotolare L'impasto E invece Non è che bisogna Accarezzarlo L'impasto Però Che non piange Se tu fai Un po' più di forza Quindi devi arrotolare Comunque la soddisfazione Nel corso del tempo È stata veramente Tanta Perché Non è stata una cosa Facile E piano piano Siamo riusciti A raggiungerla E infatti Una volta Abbiamo fatto Anche Li abbiamo fatti In appartamento Con i ragazzi E non è stato semplice Perché è tutto Un'organizzazione Devi mettere il piano Poi dopo Metterli Dopo che li hai fatti Se no si appiccica tutto Li devi stendere Con la semola Però Poi siamo riusciti A farli Cucinarli E mangiarli Abbiamo mandato il video Le foto A Tiziana Che è stata Fiera e orgogliosa Spero Assolutamente Che bello Quindi Non è stato facile I maccaroni È stato proprio Bello impegnativo E siamo riusciti A farli E poi Anche le lagane E infatti L'ultima volta Che siamo andati Abbiamo fatto le lagane E poi le abbiamo mangiate In appartamento E la cosa bella È naturalmente Pure quello Che abbiamo conosciuto Tante persone Ci siamo fatte Tante risate Abbiamo chiacchierato E poi al ritorno Ci andavamo a prendere Il pullman E ci portavamo I nostri vassoietti In appartamento Con i maccaroni Che poi Mangiavamo tutti insieme Quindi Per me è stata Un'esperienza bellissima Infatti All'inizio Avevo visto il posto Su Facebook E c'eravamo subito All'inizio Di quando avevate Pubblicizzato Il laboratorio Di pasta fresca E Ci siamo sentite Con la presidente La presidentessa Dell'associazione Che è Roberta Canonaco E anche lei Aveva visto il posto E quindi siamo state Subito Stracontente Ed entusiaste Poi abbiamo contattato L'associazione Sono stati Disponibilissimi E quindi È stato proprio Troppo una bella esperienza Che infatti Speriamo che Continui Continuerà Continuerà Sì Tu sei un patrone Tu casi un patrone Noi ormai Lo sapevamo già Poi ascoltiamo Anche dalle testimonianze Che Tiziana È bravissima A preparare A cucinare Sono anni Che le chiedo Se mi invita A cena O a pranzo E non è mai successo Ma perché? Io ci sono stato Ecco A te sì A me no E questa cosa Ci sarà un motivo Ci sarà un motivo Bravo Ne parlerò Ne parlerò Sono due bugiardi Ne parlerò con Vincenzo Allora io voglio Voglio annunciare Che è partita L'iniziativa Degli avvocati di strada Alla terra di Piero E che è una cosa Molto importante No 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 È importante Bisogna Lo voglio dire Per le persone Senza fissa dimora Hanno questa opportunità Di venire Ad usufruire Dei servizi Degli avvocati Siamo partiti Con quattro avvocati Siamo passati a sei Adesso per fortuna Sono tredici avvocati Grande disponibilità Grande sensibilità Totalmente gratuito Anche le carte Di cancelleria Vengono pagate Dagli avvocati stessi Non dalla terra di Piero Quindi Un ringraziamento totale Lo facciamo E soprattutto Diamo la notizia Che chi Che è operativa Chi ha bisogno Può rivolgersi a noi Credo Lo metteremo in rete Credo che Ogni mercoledì Sono i ragazzi Gli avvocati Che ci danno una mano Poi di giovedì Ci danno gli psicologi Però è una cosa Martedì Sto sparando giorni a caso Vero ragazzi Martedì Come avevo detto prima Come avevo detto prima È martedì È martedì Quindi Che progresso hanno fatto I ragazzi Allora Premesso che Come dicevi Ilenia I maccarroni Non è una cosa Facilissima da fare Però Come dicevo prima E lo ribadisco Da che Facevamo l'impasto E poi Non riuscivamo A tirare fuori Poco o niente Adesso Se li portano E li mangiano Quindi Tantissimi progressi La cosa Più bella In assoluto È che hanno fatto Proprio amicizia Con la pasta Perché prima Magari erano Ci sporchiamo La farina Invece adesso In tranquillità Arrivano Si mettono il gremiuli Il cappellino Ognuno va Al proprio posto Armando Che lo ringrazio Pubblicamente Tutti i mercoledì Tutti i venerdì Ci fa trovare Tutto pronto Armando Paese Paese Con le tovaglie Le ciotole La farina Sì Hanno fatto Grandissimi progressi Anche perché Ci mettono Veramente Tanto Tanto amore Li fanno Compassione Non si stancano Io dico sempre Se siete stanchi Fermatevi Loro No, no, no Continuiamo Quindi sì Hanno fatto Tanti progressi Uno su tutti Quello che ha fatto Più progressi È un nostro volontario Ormai da tempo Che sarà In trasmissione Forse all'ultima Si chiama Gio Gio Lui Quando abbiamo fatto La festa All'Altart Ha fatto I maccarroni Non solo lui Anche Loro E l'altra Associazione L'IPD Ma Gio Gio Ha fatto 15 panetti Ha lavorato Sia la mattina Che il pomeriggio È stato veramente Istancabile Nel pomeriggio Mi hanno chiamato E mi hanno detto Guarda che Gio Gio Ancora fa fusilli È stato continuo L'ho trovato Di sera Che poi L'abbiamo mangiato Tutti insieme Ed erano Buonissimi Quindi Sono contentissima Veramente E il progressi Di Marianna Ok va bene Lasciamo Stato Anche Marianna Sta imparando Non dire così Allora Marianna è bravissima Ce la sta mettendo Tutta Una persona a sé Come i ragazzi Certo Lei li sa fare Io no Qualcuno impara Qualcun altro no Certo Maria ma tu oggi Sei fare i maccarroni? No Dai Se pensiamo proprio Al risultato Per la perfezione Del lavoro Ci potrei anche provare Bravo Maria Tu sei disponibile A testare Io l'altro giorno L'altro giorno Sono andato a comprare La motoserra Il rivenditore mi ha detto Ti serve per un lavoro tuo No 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 Hai di fare Una crossata Marianna E ti hai detto Così Però Stamattina è arrivata Una bella notizia Ho letto su Cosenza 2.0 Non mi ricordo Una bella notizia A me fa piacere Quanti i comuni Si riuniscono Fa piacere Conigliano Rossano Per esempio Casale del Manco Io aspico Un comune unico Cosenza Rente Castolibro Mondalto Adesso Lappano È arrivata la notizia Lappano pure Lappano vicino È arrivata la bella notizia Che si sono riuniti I due comuni Della costa Anche su un zuppo Attaccate Però hanno fatto L'unione Fuscaldo E Fiumefreddo Abruzzo Fuscaldo E Fiumefreddo Hanno fatto Sai come si chiama Il comune Tiepido Fuscaldo E Fiumefreddo Capito No io lo voglio dire La tua ospite La nostra ospite Si è messa a ridere Di gusto Ed è di una tristenza Allora ti ho detto poco fa Che esperto Non hai capito Che esperto Stavo Io Veramente Ci sarà Ci sarà un motivo No L'antenne L'antenne L'avevo già sparata Però c'è No speriamo subito L'altro Sono il 12 Facciamo una domanda Alla nostra ospite Non lo so O a Marianna Decida tu a chi Devo fare questa domanda A chi vuoi Marianna Marianna è già pronta È già preparata Ti conosce A Marina A Marina Perché quella torre Che è una città della Toscana Perché Perché è pendente Perché è pendente Quella torre Forse perché Somiglia alla torre di Pisa No Qua si è arrivata Lo so perché è pendente Eh Perché Pisa Quindi è pendente Ecco Roba Non dirgli Pisa Capito Pisa Pisa Te lo hai spiegato I corsi No Tizia Amici Vi prego Amici 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 Non cambiate canale Lo so La tentazione è forte No Però stiamo parlando Di cose belle Ci sono anche cose interessanti Ma me l'hai detto Un digiccio scrittore Adesso puoi fare gli sms Tipo sugli ospiti Qualcuno che arriva e fa Ma lei scriva però Inizia Tutto questo A cosa poi porterà Perché c'è Il progetto iniziale Il tuo progetto Ambiziosissimo Ma Capone Ambiziosissimo Che però C'è il ristorante a favore Dove questi ragazzi Trattori 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 Il ristorante è troppo Imbegnativo Ma Vabbè comunque Il progetto comunque Mira a dare più autonomia possibile A questi ragazzi Brava A inserirli nel mondo del lavoro Quindi Speriamo Fra questo anno E anche l'altro Di poter Io dico Quasi sicuramente Ci riusciremo A renderli Autonomi Per poter entrare Nel mondo del lavoro Anche magari Nel ristorante A favore No Non probabilmente Sicuramente Saranno loro i protagonisti Certo E si occuperanno In maniera autonoma E magari Faranno la pasta fresca Il progetto È Ambiziosissimo Speriamo Di riuscirci Loro Hanno tanta buona volontà Quindi io credo Non ci siano Problemi Ci riusciremo Sicuramente Anche perché La terra di Piero È un pettirosso Da combattimento L'altro Qual è il sorriso È un sorriso Sì Ogni tanto Si sveglia la mattina Lancia queste cose E noi li sposiamo Però Sì Io no Soprattutto le seno Che sposiamo Sì Brava Le seno Sì E le seno Proprio di nome Allora Noi ogni volta Che abbiamo Posso fare Una considerazione Rispetto a quello Che stanno dicendo Alle cose belle Che stanno dicendo Le ospiti Che abbiamo stasera Che Prima diceva Elenia Sull'organizzazione Proprio della vita quotidiana E tutto il lavoro Che fanno Che è veramente prezioso Visto che Per alcune persone Sono delle vere conquiste No? Rispetto a delle cose Che Noi sappiamo bene Purtroppo che mancano E che non ci sono L'altro aspetto Quello che diceva Tiziana Che è vero Sì Ambizioso Perché parliamo Di prospettiva Lavorativa E nell'ambito Della disabilità L'inserimento Lavorativo Ai noi È Veramente Adesso Non sono aggiornato Sugli ultimi dati Ma è una roba Veramente Nemmeno in linea Con la Disoccupazione Generale Quindi Riuscire a Dare strumenti Non solo per organizzare La Propria esistenza Ma anche per Poter Autodeterminarsi Perché È ovvio che Se hai un lavoro Riesci a Autodeterminare I tuoi bisogni Le tue esigenze E organizzare Anche il tuo stile di vita E Sono Obiettivi difficilissimi Ma anche Belli da raggiungere E qui c'è Tutto Tutto un mondo No? Tra 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 gli obiettivi Ecco come si collegano I laboratori E L'inserimento Lavorativo E Perché sono dei percorsi Che devono poi andare A Come dire A Sfociarsi A sfociare Nella Nella realizzazione Proprio Della Dell'obiettivo Guardi Diciamo che Noi non ci siamo inventati nulla Perché Ma per carità Ma per carità Però anche chi ci ha preceduto Certamente non ha Affatto un percorso Così scontato Così Anzi Difficile Assolutamente difficile Mi viene subito in mente Adriana De Luca E gli altri siamo noi Che stanno facendo un percorso Già da tanti anni Inserendo i ragazzi In un ambito lavorativo Serio Ed efficace Quindi Noi Nessuna novità Da parte nostra Probabilmente il ristorante Sì La trattoria Almeno alle nostre latitudini È una novità Peraltro Sono cose che hanno fatto Gli altri Ovviamente Quando noi abbiamo Ospiti Persone Che Dedicano la loro vita All'aiuto Delle persone disabili Mi viene sempre Immediatamente La domanda Più spontanea Possibile A che punto Siamo con i diritti Con il rispetto Dei diritti Delle persone disabili Questa è una domanda Che faccio A Dilenia Perché Lavora sul campo Credo da parecchi anni Sì Sono tanti anni Che lavoro Soprattutto con le persone Con sindrome di Down E durante Questo percorso Cioè Mi è capitato Di fare comunque Delle esperienze Di inserimenti lavorativi Anche se Si riducevano sempre Ad un tirocinio Che quindi Aveva comunque Un inizio E una fine Non c'è stata mai Quella svolta Che ha dato La possibilità All'azienda Al bar Perché Tante esperienze Sono state fatte Nel campo Della ristorazione Di assumere Completamente I ragazzi Cioè In realtà Soprattutto al sud Dobbiamo ammetterlo Le cose Non è che siano Proprio Così Sorridenti Però Anche perché Cioè Ci sono tante aziende Che avrebbero Proprio L'obbligo Di assumere Una persona Con disabilità Ogni 15 Lavoratori Però Spesso Preferiscono Magari Pagare una multa Una sanzione Non assumere Una persona Con disabilità Soprattutto Intellettiva Perché magari Ancora c'è Un pregiudizio Comunque noi Cioè Speriamo sempre Che avvenga Un po' Un cambiamento Di tipo Culturale Cioè Quella è la La svolta Che poi Dà la possibilità Di assumere Le persone Con sindrome Di Down O comunque Con disabilità Intellettiva In generale Anche perché Cioè la maggior parte Dei ragazzi Tutti quelli Anzi Che hanno fatto Comunque Un tirocinio Si sono impegnati Tantissimo E hanno portato A termine Il loro compito Dall'inizio Alla fine Però Cioè vediamo Che per il sud Diventa tutto Un po' Più difficile Ci sono tante realtà Dove invece Magari ci sono Pure dei ristoranti Che vengono gestiti Da persone Con disabilità Che ottengono Degli ottimi risultati Assolutamente Purtroppo Ma pensa Voglio dire Pensa che il risultato È Portare avanti Un'attività Gestita Da persone Con disabilità Quello è proprio Il nostro sogno In generale Invece nel mercato Tradizionale Del lavoro Rimaniamo esclusi Cioè Non è solo Un traguardo È una Una botta Culturale Non indifferente Spinta proprio Perché quello Il traguardo Tutto è questo Per la preparazione Per consumarti Non è un problema Solo del sud Questo è un problema Abbastanza vasto Certo Se qualche cosa Si muove A latitudini Più Noi abbiamo visto Una bellissima realtà A Bologna Con Roberto Una Sì 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 Bella Bella davvero Che Forse là Mi è scattata La scindilla Di una cosa Che bisogna fare Qua a Cosenza E mi piace Rimarcare Che non sarà Una cosa Una storia Di ragazzi Che saranno Dipendenti Di un ristorante Ma sarà Qualcosa Di molto Di più Con la gestione Di ragazzi Perché Perché è giusto Che Il lavoro È proprio Quello Far sì che L'organizzazione E anche la preparazione Ad avviare Una cosa del genere Venga fatta In maniera puntuale In maniera precisa In maniera Formativa Seria Insomma Affiancare Queste Due lati Che hanno a che fare Veramente con l'autonomia Della persona È importante Quindi Questo sarebbe Veramente Un obiettivo Un'ambizione Con tutto Voglio dire Che Ci riusciremo Ci riusciremo Perché piano piano Ce la facciamo Che dici Sì Piano piano Noi siamo andati Anzi Noi faremo La prossima stagione Di questo programma E uno di noi due Come ho già detto La volta scorsa Non ci sarà più Vabbè Cioè mi dispiacerà Ti dedicheremo qualcosa L'oparco Una cosa Quella cosa La trova Ha appena fatto Un sms Il marito di Mariana Perché Pasquale 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 perché Pasquale e Viola Siamo un po' inalberato Per il fatto che Stiamo sfruttando La moglie Perché non sa cucinare Ci ha spiegato Sì Ci ha spiegato Perché la moglie Non riesce a cucinare Perché dice Che c'è un piede Della sua cucina Che è rotto E quindi Lei ha difficoltà Perché Le 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 padelle Sanno c'è Delle frissure Le padelle Se le scendono Ah Scivolano Scivolano Ma ha spiegato Poi qual è la marca Perché Qual è la marca Di questa cucina Che c'è il piede rotto È una zoppas Non era bello Risponde Fare dire una cosa Allora Chiudiamo Chiudiamo Questi tre minuti Con una battuta A testa Delle nostre Quattro ospite Non è mai successa Per quattro Quattro ospite A piacere Vai Vai A piacere Una battuta Anche sul programma Anche sul programma Seguite sempre comunque Il programma La terra di tutti Perché Dietro c'è La terra di Piero Che è un'associazione Che spacca Marina Mi raccomando Vedete Tutti il programma È forza In tutto È forza l'uomo È forza l'uomo In bocca al lupo Viva Grande Marina Grande Marina Marianna Maria tu puoi fare La considerazione Che vuoi L'ho fatto l'uomo L'ho fatto l'uomo Accadente Volevo fare una cosa Più seria di questa Volevo segnalare Che facciamo anche Le bomboniere solidari Alla terra di Piero Che è una bomboniera Molto semplice Che testimonia Però la volontà Di chi l'acquista Di fare donazioni Fare beneficenza E solidarietà In un momento importante Della vita Quindi contattateci anche Per quello Quindi sposatevi 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 Per le bamboniere Solidarie Esatto Non lo so Nel caso Io sono disponibile Poi Non lo sai Come Ti spusate Con le sene Con le sene Perché poi Poi è libero Le sene Capito Prego Maria Puoi fare Puoi fare il tuo appena Niente Io dico solo Che è stata Un'esperienza bellissima Questo programma Caponi No il programma Proprio un'esperienza Orribile Invece Era per fare capire All'azienda Se no Uno dice Però Ha fatto un'esperienza Bella Il programma Maccaboni Un'esperienza bellissima Che certamente A novembre A settembre Ricominceremo Ma ora è finita Grazie Finiremo L'ultimo venerdì di maggio Faremo una festa Di tutte e due Le associazioni E mangeremo I maccarroni Che faranno i ragazzi Ricordiamo Quali sono le associazioni E poi chiudiamo L'associazione Punto è a capo E ai PD Associazione Italiana Persone Down Finito Per la terra di Piero Ovviamente Per la terra di Piero Ovviamente Va bene Ringraziamo davvero Di cuore Le nostre ospiti Che sono state Bellissime Bravissime Marianna Gallo Tiziana Turano Ilenia Langella E Marina Rocca Giusto? Va bene Sei stato bravo Ho appigliato tutto Grazie di cuore Veramente a tutti quanti Grazie Un abbraccio a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti